Allora, facciamo così Lalalalalala, com'era? Ah sì, team set Nike Ah ok, grazie Può aiutare mode, al tempo non c'erano ancora i trucchi però quindi va benissimo Cushy Sexy Lady Sì Dai, alfgame, puoi farce, cioè ho fatto Ho fatto parkour peggiori di questo E Intendo dire la custom map che mi ha fatto io, ma Ouch No, mega trollata Quindi forza Cushy Beh magari mangiamo E beh ovviamente non posso mangiare se Se sto morendo Ok Sta leva che a me sembra una sigaretta No, no, no È ancora tutto fattibile, è ancora tutto fattibile Cazzo, cazzo Mamma mia Ok Spegniti Soffia Soffia Ok, a posto Eh, ma se uno cosa succedeva? Se perdeva la leva nella lava È Arc E se la ripigliava Allora, qua mi pareva che era così Rompi il quadro E non fa un cazzo Ah, ovviamente è la più buia Perché furbi l'oro, eh Se Problem Allora, era questo Bisogna distruggere la leva Per Per Abbi la porta Allora, qua, vai Assicurati di avere l'energia piena Qua Cos'è? Ah, rigenerazione Non sapevo che c'erano gli incantesimi All'epoca Allora, qua la stanza Quei quadri Eh, madre del fa Una stanza piena di quadri E tre Tavole incantate Cosa significa? Questa significa Che mi metto a dormire Mi sembra E' qua la cosa Sembra giusta Ragazzi, se riesco a caricare un video Non so quanto lungo è E Sono da provo Eh, sì Vai No, è di qua, me lo ricordo Sì, 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 sì Sì Era qua Non lo ricordo L'ho testata Io personalmente Perché doveva essere In un'altra parte No Allora No, io mi ricordo Era qua Era qua Era qua Era qua Era qua Ops Sì, era qua Perché non Non va Va Che Va No, no Non va proprio Ragazzi Non va Cioè Non so se Ah, perché forse qua Si è abbassato di un blocco Con la nuova patch Quindi non è compatibile Ok Forza cuscì Mi dispiace Eeeh Non volevo farlo Ma dovevo farlo per forza Poi qua Ok, qua funziona Dico Non c'è un po' troppa roba qua Puoi dormire Stanno di notte E qua ci dovete Dormire Ce l'ho dice il cartello Quindi Volterà a dire che è vero Forse Chi lo sa Pronto a sfidare i bossi Oh, no Posso tornare indietro Che fregatura Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Ah, motherfucker Ah, lo sapevo già Altro lato Ecco la nonna Ecco qua In un video diceva Ma dov'è la nonna? Cioè, coglione Guarda in alto Guarda cos'è È la nonna Quindi tu Tiri la leva Tiri la leva Ah, già Tiri la Tiri la leva E non c'è più E quindi E quindi Non si dovrebbe aprire La porta Com'è? Ok Ok Cioè, com'è? Era già aperta prima Vabbè Non l'ho capito Ouch, ouch Shit and fuck E qua Me lo ricordo Quanto tempo Quando la dovevo testare All'epoca Quanti smadonnamenti E non sono l'unica Quanto pare Ha visto vari Perché è stata giocata Questa custom map Eh, non è Che Non la gente non l'ha giocata L'ha giocata Eh E ora adesso Giocarla in questa versione Avete visto C'è quel bug Quindi non è un po' Senza Invece Si è riuscito La nonna È morta Finalmente Si può uscire Una porta Finalmente liberi Grazie per aver giocato Bye M96 Cronox 2011 Half Game 10 Perché sono Non l'ho rappresentato Mi ne craftando Nico Uno Ovviamente vecchio Eh Perché Cioè praticamente All'inizio È stata Costruita Da due Poi se sono aggiunti Gli altri qua Ti ho piazzato Solo qualche blocco Fatto più da tester Che da costruttore C'è da parte Tutto il team Ciao Oddio No Motherfucker No No Da Half Game È tutto E Ciao a tutti